...che presentiamo insieme, ormai siamo una coppia di fatto, solo e esclusivamente sul palco, ciò vi dico sempre, un grande doppiatore, un grande youtuber, un grande professionista, ma soprattutto un grande amico, fatemi l'applauso per Maurizio Merluzzo! E con le volte che hai imparato, ancora stai imparando, diciamo, a stare fermo su un palco, a provarci, e riesco a stare su questi palchi solo perché ho una grande mano, sono come una mini quattro così impazzita, ma ho un grande pilota, un grande amico, un grande presentatore, Luca Panzieri! E allora, adesso, alzatevi in piedi, alzatevi in piedi tutti quanti, voi preparate le fotocamere, non scattate, al mio via, al mio tre, urliamo Revolution! che è il moto di Luca 2014 e al Revolution, scattano tutti i flash contemporaneamente. Fabio, guarda che cosa esce poi, siete pronti? E allora, Giulio, alzami la musica! Uno, due, tre, Revolution! E se non lo, una volta che andrà, e la terra dell'immazionale, ma c'è un po' mai che imparato a subire. Prima di salutarci, sono tutti i ghost player che fanno l'applauso a voi, che ci avete sostenuto e ci avete permesso di andare avanti tutta la sera. E mentre questa canzone meravigliosa va avanti, io invito tutti i ghost player, fortesemente, a scendere dal palco, con la calma che vi contraddistingue. Piano, ragazzi, non mi stringete, voletevesse bene. Fate piano. Piano, piano, perché... Maurizio... Cosa c'è tra poco, Luca? Dobbiamo lasciare il microfono... Ci sono ancora monete d'oro! Monete d'oro! Da Robin Hood, da me! No! Basta, basta, basta! Guardate qui, Luca! Il polizio è sempre impassibile. E prima di salutarci, io voglio chiamare sul palco, perché vi chiedo un applauso per una persona che abbiamo lasciato per ultima. Fateci sentire il vostro calore! No! Insieme, insieme! Ok, siamo lui! Fatemi sentire l'applauso per il direttore dell'area Music & Cosplay, Gianluca Del Carlo! Allora... No, ma ce l'avete una casa? No, ma ce l'avete una casa? No, ma... No, ma... No, ma... No, ma... No, ma... No, ma... No, ma...